Tutto bene per la bella Nadia Battocletti che di nuovo diventa la regina di questi europei di atletica di Roma. Arriva infatti per lei la medaglia d'oro strameritata di 10.000 donne ed è record a livello italiano. Si è ripetuto infatti gli età storie, tutto condito da una fuga meravigliosa in solitaria accompagnata dal boato dello stadio olimpico di Roma dove la grande Nadia ha dato spettacolo di se stessa riuscendo a fare qualcosa di straordinario nonché di epico. Una facilità incredibile ma al tempo stesso una bravura veramente degna del nome che porta. La Nadia riesce nell'impresa, titanica a mio avviso, Battocletti insomma entra nella storia dell'atletica di questi europei e fa veramente qualcosa di straordinariamente bello. Componente e anali a Battocletti, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate una buona giornata a voi. E compite ancora.